Il legno è un materiale versatile, vivo. La sua bellezza e la sua forza, quindi, vanno protette. Siamo nati all'inizio degli anni 50 con questo preciso traguardo. Poi ci siamo evoluti e abbiamo portato la qualità dei prodotti made in Italy nel mondo. Nei nostri laboratori di ricerca sono eseguiti severi test che AstraVernici applica durante tutte le fasi del processo produttivo. Fattore strategico della nostra azienda è il magazzino organizzato con tecnologia a controllo informatizzato che consentono di ottimizzare ogni fase di gestione degli ordini. Grazie alla tecnologia abbiamo tradotto in realtà un sistema di produzione altamente qualitativo e completamente ecosostenibile. Offriamo una vasta gamma di prodotti di altissima qualità, tra cui vernici poliuretaniche ed acriliche, i prodotti a base d'acqua, ad essiccazione ultravioletta, le vernici poliesteri, i prodotti ignifughi e numerosi prodotti speciali, sia tradizionali che innovativi. Oggi AstraVernici è solida realtà italiana che opera in più di 50 paesi e serve più di 4.000 clienti. Imbarcazioni di pregio, arredi da giardino e le aziende del settore legno in Europa, Medio Oriente, America, Asia e Africa hanno trovato in noi un partner dinamico e su misura. Possiamo guardare con fiducia alle sfide di domani. AstraVernici, Italian Performance Wood Coatings, dal 1951. In ההcül쳐. Prodromo a cura. Perfairi, perfairi. Perfairi, perfairi, zwarolaile gobierno,